Rino a Cervinara da molti è stato definito un ripiego, secondo te? Oltre ad essere amico, da direttore sportivo l'ho ingaggiato due volte nella mia lunga stagione con Cervinara e mi ha sempre convinto e ha sempre fatto il suo dovere. Non è stato mai fortunato di avere una squadra che potesse rottare gli infertici, forse questa volta ce l'ha. Io penso che non è un ripiego. Forse non tutti sanno la storia di Rino Gaite. Rino Gaite era all'epoca il redditi solitare di Chinaglia, era il centrale delle primarie della Lazia. aveva una carriera a di sopra delle sue parti e poteva fare qualcosa in più. È stato anche capitato della serenità, quindi è stato un buon allenatore. Dove si va? Nell'Agro Nocerini è conosciutissimo, quindi ha una sua storia, come c'erano quasi tutti gli allenatori. Marino in particolare ha una storia sua personale. Ovviamente poi è un risultato della vita, lo fanno cambiare anche i caratteri delle persone, ma non per questo lui non è un buon allenatore. Basta pensare agli ultimi tre anni, quattro anni, i risultati che ha ottenuto. Una salvezza con Cervinara all'epoca, un buon campionato a San Martino, un campo non nostro. Un terzo posto con San Martino. L'anno scorso ha risuscitato il Serino dall'eventuale fossa della prima categoria, la portata ridosta delle prime posizioni. Si è attorta anche qualche sfizio andando a vincere a Montesacchio, all'epoca vicecapolista. Quindi voglio dire, Rino non è un ripiego. Rino è assai il suo mestiere. Ovviamente forse rientra a giochi già fatti, dove non ha potuto scegliere qualche calciatore, che lui riteneva forse necessario per dare un equilibrio al Cervinara. Però penso che ha tanto materiale per poter lavorare e per poter far bene. Tanta gente, Giacomo, indica in Puzio il capo espirato di questo Cervinara. Secondo me, al di là delle colpe che può avere o non può avere, diciamo che nulla è girato come doveva in queste prime due giornate, tante cose sono andate diversamente dal normale. Però secondo te che colpa potrebbe aver avuto Puzio nel gestire la squadra? Io te lo dissi anche in trasmissione. Puzio ha pagato un po' lo scotto dell'esperienza e dell'ambiente che è Cervinara. Cervinara non è un ambiente con l'anello a nase. Cervinara di calcio vive, è ammasticato. Ha una storia centenaria, voglio dire. Qui i tifosi si sentono non solo allenatori, ma anche calciatori. Quindi massimo bene di calcio. Sanno chi può giocare, chi non può giocare, le formazioni. Si vive solo di calcio in intera settimana. Quindi pagato anche questo. Non è il solito ambiente di Benevento, si parla solo il sabato e la domenica. E qui si parla di ogni giorno di calcio. Quindi Puzio ha pagato soprattutto aver ingaggiato una difesa morale della squadra in un momento che non poteva farlo. In che senso? Una squadra è stata costruita. Forse lui, forse su tutto, non ha messo parole. E alla fine si è trovata con la sua inesperienza. Perché un allenatore, è vero che allenare negli ultimi anni a San Martino, mi ricordo anche con l'altrello di Benevento, lui faceva delle presenze. Però alla fine voglio dire, una squadra come Cervinara, che ha un carattere, ha un blasone così forte, non l'aveva mai allenato. Forse ha pagato questo scotto delle inesperienze. Sulla persona non si discute proprio, una bravissima persona. Una persona di cuore, anche doveva avere più tempo. Però forse il Presidente Ricci, sullo scotto iniziale dell'anno scorso, quest'anno non ha voluto perdere tempo. Ha capito che se voleva rincorre già le prime posizioni, doveva dare un taglio netto alla situazione di uno scosso. E il rischio sono, come se lo si dà, cambiando l'anno di toro, non puoi cambiare 11 calciatori. Senti, un'ultima domanda che riguarda la gara di domenica del Cervinara. Cervinara gioca in casa con la Virtus Avellino. Forse in questo momento la gara peggiore che potesse capitare, perché la Virtus ha sei punti in classifica, è una squadra tosta con diversi giocatori del Forino, giocatori di esperienze, come Pirera, e qualche altro che ha sempre militato in categoria superiore. Rino, non a caso, parlando con me a inizio campionato, l'ha indicata comune delle protagoniste. Se la ritrova di fronte alla prima giornata, che gara dovrebbe fare il Cervinara a tutto cuore? L'anno scorso questa squadra è partita in casa, poi ho avuto tutti i successi importanti. Diciamo che è una squadra di esperta. Non a caso io cito anche Rega, un giocatore che forse parla maggior di questo campionato, uno che sa il suo mestiere. L'allenatore è espertissimo. Una squadra tosta, una squadra di categorie. Come dicevi lui, forse è il peggiore avversario che potesse capitare in questo momento a Rino Gaia. Però nei momenti del bisogno, nel momento dell'attenzione così cruciale che la squadra, Cervinara, deve cacciare le cosiddette attributi, voglio dire. Quindi in questo momento deve dimostrare che la squadra veramente può lottare per un posto al vertice.